Questa visita è un segno di omaggio e di rispetto nei confronti della città e dei cittadini di Martina Franca ed è la riconferma del rapporto di leale collaborazione con tutte le istituzioni locali della provincia. Nel mio intervento ho messo in rilievo la preziosità della cultura, della tradizione e della storia di Martina Franca e della laboriosità e dell'impegno dei cittadini di Martina Franca. Per questo le istituzioni devono continuare a lavorare assieme e a fare sempre di più per i cittadini. Lavorare assieme e fare di più per i cittadini.